La vinca per il progetto di rimozione delle polveri in combuste nei 20 chilometri di tunnel autostradali del traforo del Gran Sasso ha dato ragione alle perplessità di ASL prima ente parco poi rispetto al primo progetto presentato che prevedeva l'utilizzo di acqua a pressione per effettuare i lavori. A dare ragione ai due enti è stato il team di cinque consulenti nominati da strada dei parchi per la redazione della valutazione di incidenza ambientale, documento obbligatorio per legge che sarà ora sottoposto alla commissione via regionale. Il tema è quello della salvaguardia dell'acquifero del Gran Sasso che secondo i consulenti sarebbe stato messo a serio rischio inquinamento della falda per la presenza di centri di pericolo. Strada dei parchi dunque utilizzerà una nuova tecnica quella del lavaggio a secco con l'aspirazione delle polveri prodotte. Un progetto più cautelativo con l'aggiunta anche di un telo di contenimento sulle caditoie per evitare qualsiasi sversamento nell'acqua delle 44 tonnellate di polveri pericolose estimate come incrostazioni nelle gallerie, tante quante vengono prodotte da un impianto industriale di medie dimensioni in un anno. Si dichiara soddisfatto il forum dell'acquabruzzo che con Augusto De Santis auspica che il commissario governativo Gisonni cambi linea rispetto alle polemiche sollevate contro la vinca offrendo soluzioni valide e concrete alla risoluzione dei problemi senza fare ulteriori polemiche. Questa è una vera e propria lezione per chi pensa che queste procedure siano un orpello. Invece hanno cambiato concretamente le cose migliorando il progetto di ispezione che potrà essere fatto in maniera più rispettosa dell'ambiente e senza troppi rischi. Ma questo è stato reso possibile solo grazie all'intervento prima dell'ASL e poi dell'ente parco. L'acquifero va tutelato non a parole ma con i fatti. Pronta è arrivata anche la replica del commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso Corrado Gisonni che auspica che si stabiliscano immediatamente condizioni di serenità operativa in cui ognuno nell'esercizio delle proprie responsabilità istituzionali possa contribuire al superamento delle criticità. Per questo, dice Gisonni, non intendo replicare alle sorprendenti dichiarazioni rilasciate da rappresentanti di autorevoli istituzioni ed associazioni la cui infondatezza sarebbe facilmente dimostrabile con documenti e atti ufficiali.